Marcello Olivieri, questo è il momento in cui ripartono i pari insesti per televisioni e radio, anche le di radio, parte con alcune novità. Quest'anno abbiamo voluto ancora una volta dare spazio di informazione locale con molti personaggi locali, ma la cosa a cui io tenevo molto è avere così uno spazio di grande informazione non solo locale ma regionale e per questo motivo abbiamo chiesto a TV6 di darci la possibilità di ripetere il TG6 alle 14.15 e alle 19 in diretta su Lady Radio FM 92.7. Per questo un grazie particolare va al presidente Luciano Di Luigi che ci ha dato questa possibilità anche perché la linea editoriale di TV6 ci ha sempre affascinato e quindi grazie. Quali sono poi le altre novità nel palinzesto di Lady Radio? Allora quest'anno abbiamo una nuova collaborazione con Network Studio 5 che è una radio web di Milano e noi crediamo molto in queste sinergie, la radio, il web, la televisione e una cosa che ci affascina è un nuovo esperimento cioè portare in FM quello che viene dal web che poi automaticamente per un giro virtuoso torna anche nel web. Quindi un po' un guardare avanti perché è comunque la nuova frontiera? Ma io credo molto nel web, questo da tanti anni, sì voglio guardare avanti, voglio guardare lontano ed è per questo che ho chiesto anche a voi perché insomma come televisione siamo una televisione che guarda molto lontano qual è il modo migliore per crescere? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!